Finisce 7-0 per il Pescara e la testa amichevole contro la città di Montesilvano a Silipi. Due le reti nel primo tempo di Tonin e Balzaria nella ripresa a segno Ferraris, Saccomanni, doppietta di Zappieri e gol di Davide Merola. Non hanno partecipato all'amichevole Bentivegna, Vergani e Edoardo Pierozzi. Bentivegna e Vergani hanno svolto lavoro differenziato atletico, solo corsa leggera per Pierozzi che potrebbe non essere in campo dal primo minuto nel match di domenica prossima a Lucca. Inizio ore 19.30, diretta televisiva su Rete 8 con ampio prepartita a partire dalle 18.30. Sarà fondamentale la giornata di domani per capire le condizioni degli acciaccati. In preallarme Cornelius Staber, possibile il rilancio di Davide Merola dal primo minuto.